I prodotti bio-based rappresentano una grande opportunità di valorizzazione di flussi di scarto, soprattutto di biomasse, che anche a livello industriale possono trovare enorme valorizzazione e l'impatto sulla vita della società, della disponibilità di questi prodotti sostenibili è così rilevante e interessa tutti i settori e le filiere da motivare un grande interesse scientifico e tecnologico su questa materia.